Allora, in quest'ora in quest'ora cambiamo lievamente argomento e abbandoniamo HTML e CSS per tornare su JavaScript che come vi dicevo sarà anche poi oggi lo vediamo da un punto di vista teorico e poi settimana prossima dedicherete in realtà perché lo farà Luca, non io tre ore di esercizi su quello che oggi guarderemo da un punto di vista più teorico quindi sulle slide quindi settimana prossima ci saranno tre ore di un esercizio su tutte queste cose che vi sto per raccontare in un'ora e mezza più eventuali slide che magari in quest'ora non riusciamo a fare come vi dicevo ci muoviamo rimaniamo nel front-end ma ci muoviamo nel front-end e ci muoviamo nel front-end con JavaScript prima di iniziare React che poi anche lui sarà fatto in JavaScript quindi le basi di quello che ci serve per capire come React funziona quindi l'obiettivo di questa ora e anche delle tre della settimana prossima sono questi argomenti tranne l'ultimo cioè come carichiamo JavaScript nel browser come inseriamo JavaScript in una pagina HTML l'abbiamo già fatto con Bootstrap incollando quello script in fondo al body ma ci sono metodi migliori parleremo poi soprattutto del DOM che sta per Document Object Model e la gestione degli eventi quindi come partiamo da come carichiamo JavaScript nel browser come carichiamo JavaScript in una pagina HTML ci sono due modi uno da dimenticare come come è chiaro penso quindi questo lo possiamo dimenticare che è quello di scrivere un tag script all'interno della pagina HTML e andare direttamente dentro il tag script scrivere codice JavaScript quindi un codice JavaScript che è mischiato al codice HTML il modo invece migliore che quello che per esempio abbiamo fatto con Bootstrap anche se quel file JavaScript non era in locale ma era sui server di Bootstrap è quello di avere all'interno del tag script un sorgente che punta a un file che contiene al suo interno codice JavaScript codice JavaScript è esattamente identico come sintassi e semantica a quello che abbiamo scritto finora in Node come sintassi ora abbiamo questo codice questo script questo tag script dove lo inseriamo nella pagina HTML Bootstrap ce l'ha fatto inserire in fondo al body se voi prendete un libro di testo diciamo dove ti insegnano diciamo 20 anni fa 30 anni fa dove sarebbe stato meglio inserire un tag script ti direbbe nel LED quindi la soluzione da manuale sarebbe si inserisce nel LED esattamente come il CSS si inserisce nel LED la soluzione pratica come per esempio Bootstrap dice è inseriamola in fondo al body perché la soluzione pratica è diversa dalla soluzione dal libro di testo avete qualche idea? annetto del fatto che ci sia scritto qui c'è scritto che se lo inseriamo nel LED è inefficiente è inconveniente perché lo deve caricare quindi HTML esegue il file processa il file riga per riga quindi quando trova un file style chi recupera lo stile CSS e lo carica quindi si ferma il rendering della pagina affinché il file CSS non è completamente caricato questo vuol dire che se il file CSS è enormemente grande anche il CSS crea un problema questo è il motivo per cui se vi guardate il file Bootstrap che abbiamo incorporato non è estensione solo CSS ma è estensione min.css che è la versione minificata del CSS quindi tutti senza tutti gli spazi senza tutti gli a capo senza quasi leggibile ma è ridotta in dimensioni in modo che sia più facile più veloce incorporarlo con uno script è peggio perché è un programma e quindi potrebbe anche fare cose molto lunghe e complicate di tempo e quindi la pagina HTML avrebbe interrotto il caricamento affinché lo script non viene tutto caricato ed eseguito perché è uno script JavaScript e quindi se lo script JavaScript ci mette un minuto 30 secondi 20 secondi a essere processato la pagina rimane bloccata bianca in caricamento per 20 secondi 30 un minuto quanto tempo serve quindi è inefficiente perché il processamento di HTML è stoppato finché lo script non viene caricato ed eseguito anche se quello script JavaScript serve solo quando vado a premere il bottone sulla terza pagina del sito ma non importa viene caricato in quel momento ed è anche inconveniente perché lo script viene eseguito in quel momento e se quello script ha bisogno di un elemento della pagina per funzionare quindi cambio il colore a un bottone questo script viene caricato prima che il bottone esista nella pagina e quindi non può cambiare il colore quindi è inefficiente e inconveniente e di conseguenza è la soluzione standard metterlo in fondo al body perché in fondo al body ci risolve il problema quantomeno dell'inconvenienza e dell'inefficienza attesa perché in fondo al body ci risolve questo problema perché ha già caricato tutta la pagina e quindi è l'ultima cosa nel body quindi tutto il resto è già caricato e quindi infine carico quello e se ci mette un po' la persona che vede il sito non nota nessun problema perché tanto c'è tutto caricato quindi posso leggere posso cliccare posso fare cose questo è quello che capita quando in questi due modi quindi quando è nel nel led lo script viene recuperato scaricato caricato in un certo senso nella pagina web e poi viene eseguito e nel frattempo la pagina web aspetta rimane bianca in caricamento se lo si mette in fondo ovviamente la pagina è pronta e quindi il caricamento avviene dopo questo vuol dire comunque che se noi abbiamo bisogno di usare qualcosa che è definita qui non possiamo farlo finché il caricamento e l'esecuzione non è completata quindi se noi clicchiamo da qualche parte eccetera ci sono ora dato che sarebbe meglio mettere gli script nel led ma nella pratica li mettiamo nel body sono stati introdotti più recentemente due nuovi attributi di caricamento del CSS che si inseriscono direttamente come nomi nel tag script quindi non hanno una proprietà sono solo nomi uno è async e l'altro è the fair async non c'entra niente con l'async di javascript con l'async await è solo lo stesso nome e quando vengono usati lo script va inserito nel led quindi ritorniamo con questi due attributi alla soluzione da libro di testo la soluzione pulita gli script vanno caricati nel led ma questi due ci permettono di avere un comportamento analogo simile a quello che avremmo se lo script fosse nel body in particolare con async lo script viene caricato in parallelo all'html ma la sua esecuzione comunque blocca il parsing e il rendering dell'html con the fair invece lo script viene comunque caricato all'inizio della pagina html quindi è pronto per essere utilizzato ma viene eseguito dopo che la pagina html è pronta quindi questo anche rispetto ad avere tutto nel body ci semplifica e migliora le cose perché dopo il caricamento del body c'è solo l'esecuzione e magari l'esecuzione è in molti casi in una pagina web l'esecuzione è in realtà breve perché molte delle cose vengono fatte quando le persone fanno delle azioni sul sito stesso cliccano qualcosa aprono un bottone aprono un cliccano un bottone cliccano un link aprono un modale che fanno delle operazioni quindi due nuove metodi di attributo che ci permette di spostare quello script di bootstrap che abbiamo messo in fondo nel led e tra i due ovviamente quello preferibile è defer perché ci impedisce di aspettare di avere il sito che è in attesa e in caricamento e quindi non blocca il rendering quindi da ora in poi se dovremo caricare degli script in una pagina html non lo faremo più nel body in fondo al body come abbiamo fatto prima incollandolo lì ma lo incolleremo nel led e scriveremo o lo scriveremo nel led e scriveremo defer dove gira il codice javascript all'interno del browser il codice javascript all'interno del browser gira ovviamente all'interno del browser che è una sandbox quindi è un ambiente protetto rispetto al resto del sistema operativo e rispetto al resto degli altri programmi questo vuol dire che una pagina web non può per esempio andare a vedere cosa succede su disco se non attraverso delle primitive che il browser mette a disposizione e questo vuole anche dire che una pagina web non può andare a scrivere in un'altra pagina web su un altro dominio quindi gli script funzionano in javascript in un ambiente nel browser in un ambiente controllato e tutti gli script agiscono all'interno di un contesto globale che è un oggetto javascript che si chiama window che rappresenta la finestra appunto del browser e di conseguenza essendo attaccati a questo contesto globale possono accedere solo ai metodi e alle funzioni che questo contesto globale mette a disposizione quali sono questi metodi queste funzioni la libreria standard di javascript quindi tutto quello che abbiamo visto imparando il linguaggio gli oggetti gli array eccetera async await le promise tutti questi aspetti propri del linguaggio e si può collegare a quello che si chiama BOM il browser object modeling che rappresenta le opzioni che il browser può mettere a disposizione al alla pagina html alla pagina all'applicazione web quali potrebbero essere queste opzioni che il browser mette a disposizione secondo voi qui ci sono un po' di nomi però che cosa in pratica quali funzionalità potrebbe mettere a disposizione un browser o un'applicazione web salvare quindi accedere ai preferiti per esempio oppure qui c'è un navigator cosa sarà mai un navigator? il navigator cosa sarà un navigator all'interno di un browser? la barra la navigazione quindi permette di andare indietro nella history avanti nella history navigare location cosa sarà la location all'interno di un browser per un'applicazione web? l'indirizzo la url in cui si trova la history appunto per accedere all'intera history screen per accedere alle proprietà dello schermo della finestra quanto è grande la finestra? e quali sono le proprietà della finestra? e anche pensate al server cosa vorremmo che la nostra applicazione web a un certo punto facesse pensate al server che avete realizzato abbiamo un server che avete realizzato qualche settimana fa vorremmo che un'applicazione web fatta in javascript cosa potesse fare col server? potesse? mandare delle richieste mandare delle richieste e ricevere delle risposte quindi usare il protocollo HTTP e il contenuto della pagina non sa usare il protocollo HTTP il browser si quindi tutte queste cose sono cose che sono definite dal BOM perché è il browser che mette a disposizione queste funzionalità e poi c'è il DOM che invece sono gli oggetti che rappresentano la pagina HTML quindi la pagina in cui si è in quel momento quindi non funzionalità che vengono offerte dal browser ma funzionalità che vengono offerte dalla pagina stessa se ci sono script differenti caricati all'interno della stessa pagina HTML sono indipendenti accedono allo stesso scope globale a questo stesso global context e se si vuole importarne uno nell'altro bisogna usare i stessi meccanismi di import export che abbiamo visto e che abbiamo usato in Node se ricordate in Node abbiamo detto che ci sono due modi di importare e esportare cose per importare c'è l'import che è standard JavaScript e il require che è standard Node nel browser esiste solo l'import quindi solo la versione standard JavaScript il require non funziona all'interno del browser poi noi abbiamo usato l'import per tutto anche su Node però lo stesso meccanismo la stessa sintassi e lo stesso funzionamento si applica anche qui più file JavaScript possono importare ed esportare funzioni variabili esattamente come abbiamo fatto in Express e negli esercizi precedenti e torniamo agli eventi e gli event loop che abbiamo accennato qualche settimana fa quando abbiamo parlato degli comportamenti asincroni se la parte asincrona è vera nel server pensiamo al database pensiamo alla richiesta HTTP eccetera è ancora più vera nel mondo del browser nel mondo web nel browser sono definiti centinaia di tipi differenti di eventi che possono capitare in maniera asincrona in maniera asincrona perché dipendono in buona parte da quello che la persona fa quando ha il sito e l'applicazione web aperta quali sono questi eventi che una persona potrebbe fare quali sono queste operazioni che sono eventi che una persona potrebbe fare con un'applicazione web cosa fate voi quando avete un'applicazione web davanti cliccate da qualche parte quello è un evento è l'evento di click si può predire quando una persona cliccherà no o non con certezza e quindi l'applicazione web deve stare lì in ascolto che a un certo punto potrebbe o non potrebbe essere c'è un click a quel bottone e quando c'è un click deve funzionare subito non tra dieci minuti quindi per esempio il click un altro evento che potrebbe essere intercettato da una pagina web un over quindi il mouse che si muove quindi sì sempre relativo al mouse il click è relativo al mouse l'over è relativo al mouse cos'altro può essere relativo al mouse? il focus il focus non è strettamente relativo al mouse ma quindi quando un campo è evidenziato uno scroll quindi quando scrollo nella pagina il tasto destro quando richiamo un menu contestuale è un evento che si può intercettare pensando alla tastiera quali sono gli eventi che la tastiera potrebbe quando premo un tasto uno volendo potrebbe intercettare ogni pressione di un tasto e fare qualcosa quello è un evento e quando confermo quindi quando premo invio confermo il default comportamento quindi sotto me quindi faccio delle operazioni come se facessi click però lo faccio con la tastiera quindi ci sono un certo numero di eventi che sono o predefiniti cioè cosa succede quando voi cliccate su un link un link a href quello è un evento di click che però come sviluppatore non dovete gestire perché è un evento di default il browser ogni applicazione web sa che di default cliccando sul link bisogna aprire quel link è un comportamento di default quindi sono predefiniti dal browser ci sono alcuni invece eventi che possono essere definiti dallo sviluppatore ogni volta che premo il tasto A emetto un suono questo è un evento che può essere intercettato è il comportamento definito dallo sviluppatore o ogni volta che scrivi in un certo campo di testo metto tutto maiuscolo o tutto minuscolo non importa se io sto scrivendo in maiuscolo o minuscolo questo è un altro evento che può essere gestito dallo sviluppatore in base al bisogno che ha e poi tutti gli eventi che non sono né gestiti in maniera di default né in maniera esplicita vengono ignorati quindi il browser li vede ma non ne fa niente di nuovo come vi han detto quando abbiamo parlato di async awaited promise tutto bello tutto funziona ma javascript è sincrono di natura eppure tutte queste cose funzionano in maniera asincrona e all'epoca vi ho detto c'è un qualcosa che si chiama event loop che permette di far funzionare questi comportamenti asincroni questi comportamenti asincroni nel browser ma anche gli stessi comportamenti asincroni che abbiamo visto in node e in express quindi le chiamate al database tutte le volte che avete usato async await promise sono comunque rientrano in questa stessa logica dell'event loop che cos'è l'event loop come funziona l'event loop funziona in questo modo quindi questo è un execution environment immaginiamo cosa sia l'execution environment di javascript potrebbe essere node potrebbe essere un browser in questo caso per le cose che sono scritte qui è quello di un browser in cui c'è javascript come linguaggio array oggetti import funzioni quindi le cose che si possono fare in javascript ci sono beh c'è l'ip di memoria dove ci sono gli oggetti allocati e creati e questo è indipendente da che sia nel browser che sia su node e poi c'è questo call stack quindi javascript ha la libreria standard e poi ha un'ip di memoria per tenere gli oggetti e un call stack che è uno stack per fare le chiamate una alla volta quindi esegue le righe di codice il codice quando viene eseguito finisce nello stack e una alla volta viene eseguito ed eseguirlo vuol dire rimuoverlo dallo stack quindi se tutto è sincrono semplicemente le cose finiscono nello stack stack e poi vengono eseguite una alla volta e vengono rimosse dallo stack finché lo stack è vuoto quando lo stack è vuoto il programma termina l'esecuzione cosa c'è al di fuori di questo e questo di nuovo è uguale sia per i browser che per node o altri execution environment cosa c'è al di fuori di questo rettangolo ci sono eventuali API non offerte da javascript ma offerte da dall'execution environment in cui ci si trova quindi nel browser ci sono tutte le API che servono per lavorare col browser la navigazione che dicevamo prima la history che dicevamo prima ci sono API per aprire la webcam e prendere un'immagine della webcam ci sono API per fare text to speech e speech to text queste sono tutte API offerte in maniera standard dai browser allo stesso modo ci sono API che offre node la lettura su file la scrittura su file sono cose che fa node che non sono API del browser e poi ci sono API che sono comuni a varie execution environment tipo il timeout il settimeout che abbiamo esemplificato qualche settimana fa è una di queste API che esiste nel browser e esiste in maniera identica anche su node ma non è proprio del linguaggio e alcune di queste API sono sincrone e altre di queste API sono asincrone se sono sincrone finiscono nello stack e vengono rimosse nella loro esecuzione cosa succede se sono asincrone? se sono asincrone entra in gioco questo elemento qui come funziona a un alto livello immaginiamo che di avere alcune cose nello stack e che alcune siano sincrone altre siano asincrone come come lecito immaginiamo che la prima sia asincrona allora questa viene presa in considerazione viene eseguita ma dato che facciamo felice se è un timeout un timeout che ci dice fra 5 secondi fai stampa su schermo qualcosa quindi questo timeout viene preso in carico e viene messo in questa callback queue quindi viene rimossa dallo stack e viene messo in questa callback queue con l'annotazione che dopo 5 secondi questa è una callback di set timeout e quindi il timeout è di 5 secondi e quindi in questa callback queue ci sarà scritto questa è una callback che deve essere eseguita dopo 5 secondi e questo viene tolto dallo stack e viene eseguito la riga dopo cosa succede quando anche la riga dopo viene eseguita che prima di proseguire con l'esecuzione javascript controlla se c'è qualcosa nella callback queue in polling e se c'è qualcosa verifica se è qualcosa che deve eseguire in questo momento oppure no se non sono ancora passati 5 secondi verrà eseguito l'elemento successivo nello stack se non c'è più niente nello stack aspetta il termine di 5 secondi quando i 5 secondi sono passati e questo event loop gira sulla callback queue a quel punto va a chiamare il nostro set em out la nostra callback set em out che stamperà a schermo la frase che avremmo dovuto stampare dopo 5 secondi quindi io vi dicevo non è esattamente dopo 5 secondi per questo motivo perché bisogna aspettare il ciclo dell'event loop per cui se io qui sono a 4 secondi punto 9 e ho un'operazione nel stack che ci mette 3 secondi ad eseguire perché è un foro lunghissimo l'event loop non andrà a interrogare la callback fino a che non sono passati altri 3 secondi quindi questo time out verrà eseguito al ciclo dopo di event loop quindi a 4.9 più 3 secondi quindi a quasi 8 secondi finalmente quella callback verrà chiamata questo è anche perché la maggior parte delle operazioni lunghe nel tempo sono asincrone in modo da evitare che l'eventuale operazione asincrone stiano lì in attesa a tempo indeterminato quindi questo è quello che capita se volete vederlo esistono simulatori dell'event loop che vi mostrano come funziona l'event loop quindi questo è uno di questi e cosa fa questo questo codice cosa fa questo codice javascript questo è javascript lasciate perdere le prime 4 righe cosa fa questo codice javascript da riga 7 cosa fa fa una stampa di high e poi set un time out di 5 secondi e poi c'è un suo call back che fa scrive qualcosa e poi stampa di nuovo welcome to loop che è il nome di questo tool e poi all'inizio c'è in realtà un bottone questo bottone qua click me che fa un time out a sua volta che dopo 2 secondi stampa hai premuto il bottone quindi qui c'è la call stack l'api e la callback queue e questo è l'event loop quindi se voi eseguite salvate e eseguite questo vedete che lo stack è vuoto è andato a finire in questo in questa web app che sono le API c'è questo tem out che scade 5 secondi a quel punto finisce nella queue dato che lo stack è vuoto finisce nello stack e viene eseguito questo è molto veloce perché c'è poco codice però se noi lo riguardiamo e nello stack viene chiamata l'API finisce una roba nello stack e viene chiamata l'API si aspettano 5 secondi nel frattempo qualcos'altro succede nello stack il welcome to loop e a quel punto dopo 5 secondi viene messa nella callback queue e dato che lo stack è vuoto viene rimesso nello stack e viene eseguito se questo codice fosse più lungo e ci fossero più cose nello stack o se questi 5 secondi fossero 10 qui si può anche inserire codice che volete ovviamente questo rallenta un po' per cui c'è 7 mauto sono 7 mauti 10 secondi quando scadono 10 secondi io vi ho detto è nella callback queue è come se lo fosse comunque sta aspettando 10 secondi quando sono 10 secondi va nella callback queue e dato che lo stack è vuoto finisce subito nello stack se lo stack fosse pieno aspetterebbe che un ciclo dell'event loop prima di poter funzionare vediamo se riusciamo a a eseguirlo con il bottone visto che abbiamo un bottone adesso vedete quando ho cliccato il bottone finisco subito nella callback queue quando è vuoto lo stack viene eseguito il click del bottone e quindi le cose si accumulano sia nello stack che nella callback queue questo era un bottone quindi aveva un evento di click e un timer al suo interno quindi aveva doppio doppio elemento asincrono quindi questo vi fa vedere come funziona questo event loop il fatto che appunto le cose sono asincrone ma con questo meccanismo riescono a funzionare lo stesso ok quindi questo è il come la sync la wait le promise funzionano questo è quello che abbiamo appena visto ovviamente bisogna ricordarsi soprattutto nel mondo web di evitare codice sincrono che sia bloccante il più possibile perché che effetto ha il codice sincrono che è bloccante in una pagina web cosa succede sia in una pagina web o del codice che ci mette tre secondi a finire che è sincrono quindi non ho meccanismi asincroni l'ho già caricata la pagina sono in una pagina web clicco un bottone questo ci mette tre secondi a fare la sua esecuzione ma non è asincrono cosa succede in quei tre secondi cosa la persona pensa sia succedendo in quei tre secondi che si è bloccato perché in qualunque altro se questo è sincrono qualunque altro bottone qualunque altro link o clicchi non funziona perché il sito è bloccato su questi tre secondi di esecuzione in javascript e quindi questa è una cosa che vogliamo evitare perché se no abbiamo l'impressione che si è bloccato quindi queste operazioni sono tutte asincrone anche per questo motivo e la maggior parte delle operazioni lente devono diventare asincrone per questo motivo dicevamo che ci sono due oggetti principali nel browser uno è il BOM e l'altro è il DOM il BOM ha una certa serie come dicevamo prima di proprietà una che useremo è il nostro console.log che anche qui esiste ma in questo caso è il console.log del browser non è la console non è il terminale del sistema operativo e di nuovo c'è la history per accedere alla storia quindi alla cronologia location come ho detto prima per accedere alla URL corrente ma anche per impostare la URL corrente quindi posso puntare alla nuova pagina tramite la proprietà location e poi ci sono anche due tipi di storage che non useremo direttamente che sono due storage interne due mini database interni al browser interni a ogni browser per tenere informazioni in maniera persistente per un tempo limitato ovviamente quindi sono due oggetti che fanno parte di appunto di queste API web storage per contenere poche informazioni localmente all'interno del singolo browser uno è local storage uno è station storage ma la parte più come dire interessante è che quella che poi javascript agisce principalmente non è tanto sulla history e quant'altro che sono API che uno può chiamare ma sono quelle relative al DOM quindi qui c'è un link che va molto più in dettaglio sul DOM se siete interessati e noi ci concentriamo solo sulle cose principali allora il DOM dovreste averlo trovato quando avete letto di html che cos'è il DOM il DOM sta per document object model e rappresenta la pagina html quindi la struttura è una è un'app è un albero è un albero che rappresenta la struttura della pagina web che state vedendo in quel momento quindi è una rappresentazione interna al browser che ogni browser costruisce di una pagina web della pagina web aperta in quel momento ed è ottenuta attraverso il parsing dell'html quindi c'è la pagina html prima di venire visualizzata il browser costruisce il DOM e grazie al DOM all'albero che viene costruito la pagina viene visualizzata questo DOM ha una proprietà che ci interessa che è quella che attraverso javascript possiamo manipolarlo possiamo aggiungere elementi a questo albero possiamo navigare l'albero possiamo cancellare pezzi dell'albero possiamo modificare pezzi di questo albero e l'altra cosa che ci interessa in maniera più più marginale se volete ma comunque da tenere in considerazione è che il browser lo costruisce in ogni caso e se ci sono per esempio dei tag mancanti e quant'altro il browser tramite la costruzione del DOM cerca di accorgersene e cerca di rimediare quindi se voi avete aperto un div ma non l'avete chiuso il browser tende a chiuderlo dove probabilmente non dove doveva però lo chiude perché c'è un tag aperto che non è chiuso e questo non essere chiuso se ne accorge mentre parsifica l'HTML e costruisce il DOM quindi se avete anche dei comportamenti strani visivamente strani nel codice nella visualizzazione di una pagina potrebbe anche essere che vi siete dimenticati di chiudere un tag e il browser ha cercato di chiuderlo dove riteneva opportuno e dove riteneva opportuno non è tipicamente dove volete voi quindi il browser costruisce come è fatto questo DOM vedete parte da HTML ovviamente ignora il doctype poi un ramo di questo HTML è LED e un ramo è il body dentro LED c'è tutti i meta come per esempio title e poi dentro title c'è il titolo che avete messo nel tag stessa cosa nel body nel body c'è un div all'interno del div c'è un altro div all'interno del div c'è la tabella all'interno della tabella c'è il tr all'interno del tr c'è un th eccetera 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 e se ci fosse un thead comparerebbe un thead se ci fosse un tbody comparerebbe un tbody e quant'altro quindi ogni singolo tag che avete messo inserito viene poi rappresentato in questo albero e quindi noi attraverso javascript possiamo per esempio andare a chiedere all'albero di prendere il terzo figlio del terzo figlio del body e quindi il terzo figlio del body è questo e il suo terzo figlio è questo quindi noi possiamo andare a recuperare gli elementi in questo modo navigando sull'albero oppure possiamo dire l'ultimo l'ultimo td che c'è nell'ultimo tr della tabella e allora andare a prendere di nuovo l'ultimo td quindi non parlare genericamente di figli ma parlare di elementi specifici html il tutto navigando esplorando questo albero nel dom ci sono vari tipi di nodi c'è il document che è il nodo principale dell'albero gli elementi html i tag html si chiamano elementi gli attributi di un tag html sono attributi il testo il contenuto testuale di un elemento o di un attributo è di tipo testo è un commento html quindi minore punto esclamativo meno meno è un commento è di tipo commento e il document type è invece la declaration del talk type quindi vedete che un elemento html è di tipo elemento quindi div sono di tipo elemento e il testo quindi l'interno del div è di tipo testo il commento è di tipo commento e questi tre sono nodi e noi avremo alcuni metodi che agiscono sugli elementi quindi su questo e avremo alcuni metodi che agiscono sul testo ma avremo alcuni metodi che sono generali e agiscono sui nodi quindi quelli più generali che agiscono sui nodi ci permetteranno di manipolare il testo o gli elementi o i commenti e quindi starà poi noi essendo più generali capire cosa vogliamo fare gli altri saranno più mirati sul singolo elemento sul singolo testo un altro tipo che ci viene offerto dalle operazioni di manipolazioni è una node list che è una lista di nodi come se fosse un array quindi dato che assomiglia un array si può accedere e manipolare esattamente come accedereste a un array javascript quindi è una proprietà length per la sua lunghezza per accedere ad un elemento non si può fare list o array di uno ma bisogna scrivere punto item indice e ha gli iteratori sulle entries sulle key e sui valori ha il for each oppure si può usare il for off esattamente come con gli array javascript come manipoliamo il DOM manipoliamo il DOM attraverso dei metodi che ci vengono offerti dall'oggetto document che è un oggetto che deriva da window che è a disposizione sempre all'interno senza dichiararlo è già dichiarato all'interno di un browser quindi noi possiamo sempre scrivere all'interno di un javascript nel browser document punto e questo punto poi ci dà una serie di opzioni di cose che possiamo fare possiamo trovare per esempio elementi all'interno del DOM usando le proprietà CSS che eventualmente abbiamo definito quindi ci sono una serie di metodi i primi tre che restituiscono un nodo il primo per esempio getelementbyid restituiscono un nodo il cui attributo id è uguale a quello che è passato come parametro quindi se lì abbiamo inserito un id a quel tag html possiamo recuperarlo in questo modo e se volessimo tutti i tag div della pagina o tutti i tag table della pagina potremmo usare getelement elements by tag name e passando come valore table div eccetera come stringa stessa cosa se volessimo intercettare le classi che abbiamo applicato a un vorrei tutto quelle che hanno una classe raw visto che abbiamo visto la classe raw in bootstrap e quindi questo restituisce un array di tutti gli elementi html che ha di tutti i nodi che hanno una classe uguale a raw questi tre metodi sono i più vecchi e notate che il primo a differenza degli altri due è singolare quindi il primo restituisce un nodo mentre gli altri due restituiscono una lista di nodi perché il primo è singolare? perché l'id dovrebbe essere unico in una pagina html quindi se voi usate 2d nella stessa pagina 2d identici nella stessa pagina html state sbagliando ma oltre a sbagliare lui ne prende uno solo dei due non ne prende entrambi gli altri invece sono plurali perché le classi si possono applicare a molteplici elementi e i tag uno può usarne molteplici volte quindi se voi avete un solo tag come nel nostro caso prima avevamo solo una table se noi andessimo a recuperare la table ne troveremmo uno solo ma sarebbe comunque una lista gli ultimi due metodi sempre per recuperare nodi dal DOM sono invece più generici e usano la sintassi del CSS per recuperare i nodi uno è un query selector singolare quindi restituisce un nodo il primo nodo o l'unico nodo se c'è e l'altro un query selector all che quindi prende tutti i nodi che rispettano la condizione indicata come stringa nelle parentesi come valore qual è questa condizione? cos'è la sintassi di un selettore CSS? un esempio di sintassi di un selettore CSS? il cancelletto quindi scrivere cancelletto qualcosa vuol dire che stiamo cercando un id che si chiama qualcosa e il cancelletto indica questo che è il fatto che sia un id se volessimo cercare una classe row cosa scriveremmo? punto row e così via con i selettori più complicati potremmo scrivere punto row maggiore table punto qualcos'altro e quella andrebbe a prendere la classe qualcos'altro all'interno della tabella ma solo se la tabella è all'interno di una row quindi potremmo anche concatenare fare selettori più complicati rispetto ai primi tre funzionalmente sono identici ci permettono sempre di ottenere un nodo o una lista di nodi con che è l'elemento che vogliamo recuperare ecco questi questi metodi sugli elementi funzionano anche in maniera volendo discendenti in maniera che si può concatenare quindi io posso recuperare un id main dal document e poi agire su questo nodo main che a sua volta è un elemento html per recuperare al suo interno e solo al suo interno altri tipi di elementi attraverso questi metodi quindi io posso agire o a livello di document oppure anche a livello di node del singolo nodo del singolo elemento per andare a recuperare ulteriori elementi quindi restringere il campo di ricerca da document tutta la pagina in questo caso main il pezzo di albero che ho estratto che ho trovato in precedenza con il get elementi di main quindi tutto quello che è dentro main se pensate per esempio al nostro caso qui ci sono esempi e se voi fate poi console.log o lo vedete nella console del browser vedete appunto cosa vi restituiscono questi metodi quindi quelli che restituiscono un nodo vi mostrano l'intero nodo in questo caso erano solo due di vuoti se c'è una lista di nodi vi mostro una lista e quindi a quel punto la lista è da iterare sopra per riuscire a recuperare le informazioni quindi si possono trovare elementi di quel tipo ma si può anche navigare l'albero e dato un nodo l'albero si può navigare in questi modi si può da un nodo passare al nodo genitore si può da un nodo passare al diciamo al fratello precedente successivo quindi quelli che stanno a fianco di quel nodo si possono prendere tutti i figli di quel nodo come array oppure si può recuperare il singolo primo figlio o l'ultimo figlio di quel nodo sempre secondo la costruzione ad albero che è stata fatta del DOM quando avete un nodo gli attributi di un elemento diventano proprietà dell'oggetto dell'oggetto nodo dell'oggetto elemento quant'altro quindi per esempio se voi avete un body id uguale qualcosa l'oggetto è document punto body punto id e quindi recuperate page oppure document aperta graffa body aperta quadra body aperta quadra id quindi con l'annotazione da array questo vale per tutti le proprietà gli attributi di elementi html quindi è possibile non solo navigare l'albero ma anche andare a prendere direttamente un attributo di un tag specifico per esempio il body facendo document punto body punto qualcosa quindi navigarlo pezzalo per volta e gli attributi sono esposti come proprietà se si vuole manipolare gli attributi ci sono dato l'elemento che contiene quell'attributo quindi non dato document ma dato main dato un altro elemento recuperato che contiene quell'attributo si può verificare con dei vari metodi se quell'elemento ha un attributo questo elemento ha un id oppure no e se non ce l'ha allora a quel punto andiamo avanti prendere il contenuto di quell'attributo prendi il contenuto di id prendi il contenuto di class prendi il contenuto di un attributo impostarlo con set attribute che vuole due parametri l'attributo il nome dell'attributo da impostare e il suo valore si può rimuovere l'attributo dall'elemento html si può prendere tutti gli attributi visualizzare tutti gli attributi di un elemento e c'è il metodo matches che sempre usando la sintassi dei selettori CSS permette di verificare se un certo elemento corrisponde a un match corrispondente con quella stessa sintassi CSS e quindi restituisce vero o falso di conseguenza è anche possibile creare elementi quindi non solo recuperarli e i due metodi principali per farlo sono create element tag quindi il nome del tag per creare un elemento di quel tipo quindi create element aperta parentesi stringa div crea un div e create text node crea invece un elemento di tipo testuale quindi un nodo testuale qui ci sono due esempi qui crea un div imposta la classe di quel div e poi imposta il testo che è contenuto all'interno del div notate che come imposta la classe non scrive div.class ma scrive div.class name perché non può scrivere div.class in javascript perché class è una keyword riservata quindi in CSS si chiama in HTML si chiama class ma in javascript non si può scrivere div.class perché javascript lo interpreterebbe come classe come una classe del linguaggio invece si usa class name perché appunto è la classe è il nome della classe HTML e quindi quando c'è un valore che una parola riservata hanno variato il nome dell'attributo in automatico quindi classe è forse uno degli esempi principali in cui questo capita creare questo creare questo vuol dire creare in HTML questo quindi un div che è una classe con alert alert success un test al suo interno e poi il div si chiude non basta creare gli elementi quando si crea un elemento viene creato ma viene tenuto in memoria non viene inserito nella pagina e quindi dopo la creazione di un elemento bisogna sempre inserirlo nel DOM se no non compare e per inserirlo nel DOM un modo per inserirlo è andare nella posizione in cui si vuole inserirlo in questo caso per esempio il body e usare il metodo append child append child prende l'elemento che avete appena creato e lo aggiunge in coda a dove volete voi in questo caso al body ci sono anche modi per aggiungere i figli di un elemento quindi non solo per aggiungere un elemento in un certo posto in fondo ma per aggiungere un figlio o per inserirlo prima di un altro nodo oppure per rimpiazzare un figlio di un elemento con un altro in un unico comando quindi append child aggiunge un figlio a un elemento insert before lo aggiunge prima di un altro elemento e replace rimpiazza replace child rimpiazza un nodo con un altro e poi si sono divertiti per cui mentre questi tre elementi si applicano questi tre metodi si applicano sugli elementi html esistono poi altri cinque metodi che si applicano invece su qualunque tipo di nodo quindi non solo sugli elementi ma anche sui nodi che sono append prepend before after replace with che appunto permettono di appendere e qui c'è questo disegnino appendere in fondo se facciamo ol.append lo mettiamo in fondo all'ol quindi dopo l'ultimo elemento della lista se facciamo il prepend lo mettiamo come primo elemento della lista all'interno dell'ol se facciamo un before lo mettiamo prima dell'ol stesso se facciamo un after lo mettiamo dopo l'ol stesso e replace with invece rimpiazza i primi tre metodi quindi non si applicano a document i primi tre metodi non si applicano a document perché vuole un elemento si applicano a body per esempio perché document ha anche led quindi tu non puoi aggiungere se volete recuperare o impostare invece il contenuto html in maniera testuale quindi senza passare dalla creazione di nodi o di elementi c'è anche una proprietà che è inner html che permette di impostare o di recuperare l'html contenuto all'interno di un nodo o di un elemento in forma testuale quindi vi restituisce una stringa che contiene strong minore strong maggiore la frase minore slash strong maggiore quindi tutto il contenuto testuale dell'elemento che state recuperando questo vale sia per leggerlo che per scriverlo quindi si può creare un elemento o creando elementi una alla volta e poi aggiungendo figli rimpiazzando figli e quant'altro oppure agendo direttamente sull'html come se fosse una stringa e quindi andando a sostituire o inserire attraverso inner html il contenuto e allo stesso modo l'inner html permette di aggiungere un fragmento html valido che deve essere valido e in maniera analoga al prepend postpend eccetera esiste anche un insert adiacent con before after sia per l'inizio che per la fine e anche un insert adiacent text e un insert adiacent element quindi per raggiungere un elemento o del testo vicino a vicino dove vicino è il before begin after begin before end after end in maniera simile anche se con termini diversi rispetto al prepend postpend after begin e before dei metodi precedenti all'interno però di come fragmenti html quindi come stringhe che rappresentano html non come oggetti elementi come prima e si possono anche clonare nodi quindi fare una copia del nodo attraverso clone node e clone node ha un parametro che è true o false dove true fa una copia recursiva quindi una doppia profonda dell'elemento incluso gli attributi gli elementi al suo interno eccetera mentre con un parametro false fa una shallow copy esattamente come abbiamo discusso le deep e la shallow copy quando parlavamo degli array e degli oggetti in javascript questo è ovviamente utile se vogliamo replicare un pezzo della pagina già esistente così com'è e magari modificarla pensiamo al copia e incolla che abbiamo fatto prima potremmo copiare il nodo e magari modificarne alcuni valori si può anche cambiare lo stile degli elementi di un html attraverso l'attributo class list che prende la lista delle classi applicate quindi la classe mettendo il contenuto dell'attributo class in una lista e in questa lista quindi si può aggiungere elementi quindi aggiungere una classe a una classe già gestente rimuovere una classe che esiste e fare il toggle quindi se c'è la rimuovo e se non c'è la aggiungo oppure verificare se la lista delle classi contiene una certa classe e quindi se contiene una certa classe da usare per esempio in un if poi agire di conseguenza è preferibile agire sulle stili attraverso class list ma esiste anche un element punto style che contiene tutte le proprietà CSS applicate a un elemento e permette anche di impostare le proprietà CSS applicate a un elemento quindi per esempio element dove element è l'elemento recuperato dal DOM punto style punto display uguale none imposta l'attributo display a none per quel singolo elemento quindi questa è una manipolazione di javascript da javascript per il CSS e questo agisce sullo stile dichiarato e c'è anche un metodo che si chiama get completed style che agisce sullo stile calcolato dal browser quindi tenendo in considerazione eventuali altri stili per esempio quelli di default applicati dal browser e le proprietà in generale le proprietà CSS che hanno più di una parola e sono separate da un trattino come background color o quant'altro si scrivono in camel case quando vengono utilizzate come attributi quindi background color è background C maiuscola olor invece che background meno color Z index Z trattino index è Z I maiuscola index per poterlo utilizzare ok prossima volta guardiamo perché sono gli 11.20 guardiamo la gestione degli eventi quindi come andiamo a intercettare un evento e come poi possiamo fare qualcosa a partire da quell'evento e poi proseguiamo con questo esercizio per tutte le tre ore se avete domande sono ancora qui per 5 minuti altrimenti non ci vediamo martedì ci vediamo fra qualche settimana ci sarà Luca Mannella a posto mio martedì prossimo giovedì il laboratorio sarà su html css bootstrap e creerete la pagina web della vostra finlibrary buona continuazione di giornata